Ci vai un po' pesante. Caro Mario, inizio subito con lo ringraziarti per le parole che mi hai scritto e soprattutto per essere venuto in questo posto di disintossicazione. So bene che non è facile leggere delle testimonianze personali davanti a tutte queste persone. Come ti ho già detto venerdì, i motivi che mi hanno spinto a chiedere a te di fare per me questa intervista sono più di uno. Quindi ora provo ad elencarteli e a darti anche qualche consiglio. Uno, perché tra i tanti cugini che abbiamo tu sei stato sempre quello con cui ho legato di più. Forse perché avevamo un po' lo stesso carattere ribelle. Due, perché negli anni della mia malattia tu e la tua famiglia siete stati vicino a mamma e ad Anna. E quindi anche se non lo ammettevo a me stesso, Anna considera zio Furio, tuo padre, quasi un papà. E anche io in questo anno l'ho rivalutato molto perché come ben sai in questi anni indietro tra me e lui ci sono state discussioni molto accese che mi hanno portato a farmi allontanare da lui e da tutti voi. Tre, perché oggi, anche se mi sembra che tu sia un figlio modello, perché lavori e pensi al futuro, ci vai un po' pesante con il bicchiere, come me, agli inizi. Ovviamente non tutti i giorni, ma ogni tanto lo fai. In compagnia ti fai trasportare e questo non va bene. A lungo andare ti potresti ritrovare nelle mie stesse condizioni e io non lo vorrei proprio. Ricordo bene quando a qualche festa ci siamo seduti a tavolino insieme e come a fine pranzo o cena ci siamo alzati. Ricordo quel sabato sera che ti ho incontrato e a malapena ricordavi il tuo nome. Queste sono le cazzate che a 18 anni si fanno e vanno bene se rimangono tali, ma a sentirti parlare e a sentire Marisa non sembra così. Non ti sto dicendo di seguire il mio stesso percorso, ma di pensare bene a ciò che fai, per poi non ritrovarti male. Hai al tuo fianco una persona speciale, come Marisa, e sai bene che le ragazze come lei non esistono più. Noi siamo stati fortunati perché le abbiamo al nostro fianco e ci stanno vicine nei momenti difficili, ma ricorda che Marisa ha ancora una vita davanti, quindi non farla stancare di stare con te. Cerca ogni giorno di renderla partecipe della tua vita e soprattutto non farle perdere la fiducia. Regalale ogni giorno un pezzetto del tuo cuore, rispettala, perché lei sarà tua moglie e madre dei tuoi figli. Oggi posso dirti, dopo un anno di astinenza, che non vale la pena bere o drogarsi. La vita va assaporata giorno dopo giorno da persone lucide, nel rispetto di chi ci sta a fianco e con l'umiltà di chiedere scusa quando si sbaglia. Concludo augurando a te e a Marisa un futuro di gioia e serenità e che la vita ti sorrida sempre e spero che il rapporto che è rinato tra noi in questo anno vada sempre migliorato. Auguri, cugino Commento Non ci si disintossica dall'alcol o dalla droga, ma dalla propria incomprensione che ci fa drogare. Confessare il proprio vizio davanti a tante persone è un gesto altamente evolutivo. Il drogato tende ad allontanarsi da quelli che non hanno il suo vizio perché se ne sente inferiore. Ci vai un po' pesante col bicchiere. Come me quando iniziai, perché non a caso, essendo mio cugino, hai un carattere simile al mio. Non esistono le cazzate dei diciott'anni, esistono le cazzate e basta. L'astinenza, anche quarantennale, non preserva perché l'insufficienza evolutiva che provoca la droga è sempre pronta a ritornare al galoppo. Buon appetito! Grazie a tutti